Benvenuti su Italia Gossip Express, il nostro canale di aggiornamenti in tempo reale. Assicuratevi di lasciare un mi piace, seguirci e attivare le notifiche per non perdere alcuna notizia attuale. Stefano De Martino è attualmente al centro delle voci a causa della sua storia sentimentale con Belen Rodriguez. Sembrerebbe che questa relazione sia giunta al termine in seguito agli ultimi avvenimenti. Oggi ad alimentare ulteriormente le chiacchiere, è intervenuto il sito da Gospia, il quale ha rivelato un segreto finora mantenuto sul conduttore di Rai 2. Si dice che De Martino partecipi a serate in discoteca ottenendo un generoso compenso, ma curiosamente non condivide queste esperienze sui social per una ragione ben precisa. Preservare la sua immagine di volto di punta di Rai 2 nel frattempo Stefano De Martino rimane al centro del gossip a causa della crisi con Belen Rodriguez la conduttrice argentina sembra aver G dimenticato il suo ex marito trovando conforto tra le braccia di un imprenditore bresciano come evidenziato dalle foto pubblicate sull'ultimo numero di chi L Argentina e L imprenditore Elio Lorenzoni si scambiano gesti affettuosi compreso persino un bacio.